Ci sono due multinazionali italiane di respiro europeo pronte ad investire in Puglia. Entrambe sono interessate a rilevare la ex OM Carrelli di Bari. L'intesa è vicina, secondo ciò che trapela, dal vertice tra l'assessore Caroli e il sindaco di Modugno. L'accordo potrebbe chiudersi nel giro di una settimana. Si completerebbe così un lavoro di ricerca partito otto mesi fa e che ha visto all'opera governo centrale, regione Puglia e comune. Il tutto all'indomani dell'accordo di dicembre scorso con i sindacati che consentì alla CHIOM di recuperare i macchinari sbloccando i picchetti di protesta dei 230 lavoratori dello stabilimento. L'intesa col nuovo gruppo prevede l'acquisizione del capannone passato nel frattempo sotto la gestione dell'amministrazione, caso identico all'avvertenza Mirolio-Aginosa Marina. I nuovi investitori useranno l'opificio incomodato d'uso gratuito, azzerando i costi di insediamento. In cambio però si sono impegnati a mantenere i 230 dipendenti ex CHIOM minacciati a fine giugno dalla scadenza della Cassa Integrazione. Top secret i nomi delle aziende interessate. L'assessore Caroli si è impegnato a farle restare entrambi in Puglia. Una delle due andrà a Modugno, l'altra potrà insediarsi in uno degli ex stabilimenti in crisi presenti sul territorio regionale.